Eccoci di nuovo, buca numero 4, qui c'è una pendenza del 20%, quindi la preimpostiamo. Allora, non mi ricordo il vento su questa buca, ah, perfettamente dritto. Ok. Quindi in questo caso proviamo a giocarla come si giocava in Master nel scorso torneo. Questo vi ricordo che è torneo expert. Qua avete due opzioni, Orof, Bump, fatto direttamente con Sniper, oppure il tiro che sta facendo il nostro avversario direttamente col Goliath. Great dovrebbe spingere la palla più a destra. E' un buon tiro comunque. Ok, quindi... No, non si riesce neanche a fare il rough bump, andiamo direttamente a Goliath. Quattro di back, due di side a destra. Qui la palla non si muove, quindi è tipo un golden spot. Abbiamo detto... 20% in più, quindi 4,8. Perfetto. Giusto un po' corta. Quindi non 4 di back, ma 3,5 più o meno. E direi non 20%, ma un 15% dovrebbe andar bene. E ci siamo. E direi non 20%, ma un 15% dovrebbe andar bene. E direi non 20%, ma un 15% dovrebbe andar bene.